Buongiorno a tutti, mi chiamo Iodice e sono il Ferramon Product Manager di Biogard. Vi presento il nuovo prodotto per la confusione sessuale di Tignoletta, Isonet LTT. Il prodotto è un nuovo diffusore a doppio capillare che rispetto al vecchio Isonet L ha un dosaggio diverso. Viene applicato infatti a 200-300 diffusori per ettaro, con quindi una velocità notevole per quanto riguarda l'applicazione in campo e un'efficacia paragonabile al vecchio prodotto Isonet L, che veniva applicato invece a 500 diffusori per ettaro. Il rilascio del diffusore è uguale a quello vecchio, quindi l'applicazione deve essere fatta prima dell'inizio del volo della generazione svernante, quindi diciamo ai primi di marzo e il rilascio del diffusore copre tutta quanta la stagione sia dell'uvo da vino che dell'uvo da tavola. Quindi un'applicazione omogenea nel vigneto, in questo caso può essere sia appunto uvo da vino e uvo da tavola e una copertura completa di tutti i tre cicli della tignoletta. Il prodotto ha una shelf life di tre anni rispetto ai due anni che aveva il vecchio Isonet L.